Buona, grande Michele! Viete, viete, su tiro di Michele e Daniello, ha segnato Gianluca Malbone, 4 a 0, già nel primo tempo, ha segnato Gianluca Malbone il numero 9. Buona Già, buona Già! C'è una ribattuta, il pallone è sbattuto al cortiere, la ripresa è carambolata in rete, 4 a 0, nel primo tempo qui a Bocchianico.